Bene, finalmente possiamo parlare anche di un vino interessantissimo, uno dei vini protagonisti delle Langhe che è il Barbaresco, lo faccio volentieri con Mauro Ferracini dell'azienda agricola Villa Ile. Grazie, innanzitutto un saluto a tutti quanti voi, io rappresento come ha detto il conduttore dell'azienda Villa Ile, con poderi in treiso, quindi noi abbiamo la nostra sede reale all'interno dei vigneti del Barbaresco, che è un vino che ha una nobiltà notevole, ma con una struttura, una potenzialità che può arrivare veramente a tutti quanti, quindi ci piace l'idea che la gente possa gustare e assaporare un bicchiere di Barbaresco, non dico quotidianamente, ma comunque molto frequentemente. Immagino che dietro un bicchiere di Barbaresco, di emozioni, di storie da raccontare ce ne sono tante. Assolutamente sì, parafrasando personalità ben più eccellenti, voglio dire, i sentori, i profumi, dentro un bicchiere di Barbaresco trascendono quello che uno riesce e lo portano veramente a migrare e a volteggiare nelle ali della fantasia e dei propri ricordi, quindi questo è vero. Mauro mi hai conquistato, funziona, sei un bravissimo narratore del vino, grazie per il tuo tempo. Grazie a voi, grazie, arrivederci.